...all'interno del club per tutti questi anni, molti di loro gareggiano, sia a livello nazionale che qualcuno di loro, anche internazionale. Nel momento in cui vedete la scritta Italia dietro è perché almeno una volta hanno fatto parte della squadra nazionale, altrimenti la scritta Italia non viene messa sulla divisa. Ora vediamo un ostacolo medio, quindi un'altezza media. Bene, complimenti ragazzi, un applauso. Ora vediamo una parte un pochino più tradizionale, ci sarà Filippo che farà Longo Queen. Queste sono le forme, i Queen sono la parte individuale dove si lavora appunto su queste forme, sono una combinazione di tecniche. Longo rappresenta il drago e la tigre. Filippo che adesso ha 15 anni, secondo me dopo mi correggerà, perché mi ricordo l'età di tutti i miei allievi. La pratica era quando ha 5 anni e ha partecipato a un campionato europeo junior nel 2019 ed ha conquistato anche una medaglia d'oro nel campionato junior ultimo. Ora ci stiamo preparando perché il campionato junior torna finalmente dopo un po' di anni di stop nel 2023. Nel 2023 avremo il campionato europeo in Spagna, ora avremo Lorenzo e Giovanni che presentano il Sol y en va, è una combinazione sempre preparata per un combattimento codificato. Loro presentano questo programma per essere selezionati alla prossima pompa internazionale di dicembre. Hanno già fatto parte della nazionale proprio con questo programma e adesso si ripresentano. a ora adesso da qua vedremo una delle tecniche tipiche del Vodinammo ovvero le tecniche di forbici al collo, eseguita da Giovanni su Lorenzo. Sono queste tecniche dove si prende l'avversario al collo con le gambe. Ora Ulilia entra a eseguire un quen, dai gruppi con la off-up e una forma eseguita con la scimitarra. La scimitarra è un programma avanzato. Olivia ha praticamente venito da tanti anni, che lei ha iniziato a cinque anni, adesso va all'università e ha fatto parte della scuola nazionale nei junior, quando ancora era minorenne. Lo studio in questa forma è importante, ovviamente ci si mette anni per studiare correttamente tutte queste borbe, perché le tecniche sono lunghe, ci sono tanti movimenti e non è facile ovviamente immagazzinare tutto come magari si può immaginare, però come vedete le tecniche sono tante. Ora vediamo Win e Luca. Win e Luca è la prima esibizione che fanno, non hanno mai esibiti pubblico, si allenano da 2-3 anni con noi e faranno vedere delle tecniche base a coppie di difesa, sono le prime tecniche a coppie che si imparano nei primi anni di pratica e e adesso ce la stanno facendo vedere in esibizione. bravissimi, complimenti. Ora, e vai un applauso anche per loro, la loro prima esibizione. Complimenti. Ora, io con Federico, ancora un solo U.N., il compattimento codificato con il bastone lungo. è un applauso anche per loro, è un applauso anche per loro, è un applauso anche per loro, una donna al 140 isli. Si viene stato hour, rulemente ce chiude' al garter o più sportif verdade è un applauso anche per , pensate che raci o l'÷好prpage di portarino. Oh, quello che fare goat? Si è arrivata tra i giombres e blog actually si è arrivato! Grazie. Ok, Riccardo, anche lui è un ottimo. Abbiamo passato all'interno della squadra nazionale junior, presenta la forma di spada, in pratica ci sono delle tecniche applicate poi in forma individuale, lui adesso sta preparando questa competizione per poter essere selezionato al campionato per la squadra nazionale junior del 2023. Il 23 di ottobre era già la prima gara. Considerate che anche se ci siamo fermati un po' negli anni dell'academia, molti di questi ragazzi in realtà sono andati a allenarsi sempre in qualche modo. Siamo riusciti sempre a tenere allenati nonostante non ci fossero competizioni e queste sono le vere prime competizioni che ripartono dopo un bel po' di tempo. Quindi è un po' quasi come un ricominciare per molti di noi. Complimenti a Riccardo. E adesso Giovanni e Lorenzo di nuovo presentano poche tecniche da un combattimento pontificato, in realtà sono tecniche con un coltello. Hanno selezionato alcune tecniche di difesa dal programma. Hanno selezionato alcune tecniche di difesa dal programma. lavorano insieme fa tanti anni. Lorenzo ha iniziato che era piccolino, Giovanni ha iniziato che era già adulto, ci sono affiamati da subito e da molto tempo che insieme fanno un ottimo lavoro. Nel 2014 hanno conquistato la prima loro medaglia d'oro nel campionato europeo ad uno. Ora Olivia di nuovo, sono in off-up, la forma con questi doppi coltelli, voi ne vedete uno ma poi si sdoppierà, fa sempre parte del programma individuale e tradizionale abbastanza avanzato anche questo. Ovviamente voi non vedete all'interno di questi movimenti quello che lei esattamente sta facendo, in realtà questa forma si impara solo dopo aver imparato le tecniche che Lorenzo e Giovanni hanno applicato, in realtà lei le sta replicando con i due coltelli in mano e quindi sta ripetendo le 12 tecniche, perché totali sono 12, Lorenzo sulle regioni erano mostrate quattro. sulle regioni erano mostrate che Londra e ancora concentrati con il piano avrebbe e vi è terminata anche questa forma lunghissima difficile veramente imparare un programma complicato ora rientrano Filippo e Riccardo insieme Filippo e Riccardo insieme nel 2019 hanno conquistato la metà dell'oro con un solo UEN sempre tecnici a coppie non questo questa è la prima volta che lo portano in esibizione l'hanno imparato lo scorso anno e adesso lo portano in esibizione il solo UEN in pratica sono le tecniche che Riccardo prima ha fatto in modo individuale qua sono applicate nel combattimento codificato il ragazzo e Riccardo praticano tantissimi anni hanno 15-16 anni e hanno iniziato insieme all'età di 5 anni sono circa sono sempre allenati insieme e sono un po' quelle cose rare non è così facile avere una coppia di ragazzi che continuano per così tanti anni e riescono a portare avanti un programma così sono ovviamente super affiatati questo è un sorvelo difficile anche perché il controllo dell'arma è fondamentale anche se le armi non sono vere comunque è importante imparare a maneggiarle correttamente perché non ci si può permettere mai di farsi male in allenamento e vi ha un applauso ultimi tre numeri ora abbiamo Sergio e Francesca Sergio e Francesca anche loro sono in coppia così la prima volta che fanno un'esibizione di questo genere Francesca farà delle tecniche di difesa Sergio sarà l'aggressore oggi il suo ruolo è quello e Francesca si difende ovviamente utilizzando tecniche di quelle che si imparano regolarmente di base le abbiamo combinate creando una mini scenetta di difesa e via e complimenti a Francesca ora vediamo un numero di chiusura che sono le tecniche di gamba al collo o comunque sono questi attacchi di gamba appunto denominate forbici erroneamente in realtà però perché richiamano questo movimento e sono un po' tipiche della nostra disciplina avete visto applicare in modo facile il corpo in linea bassa adesso loro le eseguireanno tutte in linea alta come vedete è fondamentale imparare a cadere oltre a avere la giusta del cia per poter saltare e eseguire le tecniche è fondamentale saper cadere correttamente perché nessuno dei ragazzi esegue queste tecniche e si fa male è importantissimo il lavoro di coppia non è soltanto il lavoro di uno ma è il lavoro della squadra nonostante l'arte marziale è sempre una disciplina direttamente individuale in realtà è fondamentale essere una squadra sempre tra quello che è il club tutto quello che si fa lo si fa insieme ed è fondamentale che lo si faccia insieme e nello stesso modo quindi non è assolutamente una pratica individuale né per gli adulti né per i bambini ma quindi si insegna a stare a lavorare con il compagno e nonostante la tecnica non fosse perfetta come notate è venuta lo stesso perché questo vuol dire essere in grado di lavorare in coppia e quindi riuscire a fare le tecniche comunque e via e chiudiamo con l'ultima tecnica Giovanni e via bene allora abbiamo terminato l'invito allora il gruppo che ha fatto l'esibizione tornare in fila per il saluto l'invito grazie a tutti Grazie.